Un nuovo episodio di violenza nella casa circondariale di Avellino, a ricostruire l'accaduto Emilio Fattorello, segretario nazionale per la campagna del Zappe, un detenuto problematico con patologie psichiatriche in un raptus di inaudita violenza, ha fatto irruzione nel deposito dei farmaci distruggendo tutto ciò che aveva a portata di mano. Il personale e la polizia penitenziaria, seppur con grandi difficoltà, è riuscito a contenere l'esagitato. Durante l'azione di contenimento, l'ispettore intervenuto sul posto ha subito un profondo morso alla gamba da parte del detenuto, ormai fuori controllo. Il detenuto è stato quindi ricoverato con procedura di urgenza nella struttura neuropsichiatrica dell'ospedale civile di Solofra. L'episodio riapre con evidente drammaticità sulla detenzione di soggetti problematici, affetti da patologie psichiatriche dopo la chiusura degli OPG. Un altro evento critico tra le sbarre del carcere Irpino, con il rinvenimento e sequestro di telefoni cellulari in uso illegalmente ai detenuti. Il personale di polizia penitenziaria del carcere di Avellino, a seguito di un'accurata azione di controllo mirata alla scoperta di oggetti non consentiti tra le sbarre, ha rinvenuto e sequestrato quattro microtelefonini perfettamente funzionanti, occultati in due diverse celle e nascosti dietro i lavabbi. Il sappe, con una nota, pone ancora l'accento sulle criticità delle carceri, aggiungendo che servono interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto.